Considerato che la Lega è un movimento autonomista e indipendentista e quindi l'obiettivo del nostro partito è la creazione della Repubblica Indipendente Padana, considerato che ad oggi Roma e le istituzioni italiane, ancora e sempre di più, trattano la Padania come una colonia da sfruttare e che il governo, l'attuale governo italiano, è di fatto illegittimo e quando non è eletto da nessuno ed è solo ed esclusivamente rappresentante dell'Europa, a cui questa Italia ci ha svenduti, Considerato che l'attuale Parlamento, reo di continuare a reggere in piedi l'attuale governo, non rappresenta il volere dei cittadini, senza rinnegare i tentativi di passare dal Parlamento italiano per raggiungere i nostri obiettivi, senza disconoscere i piccoli e grandi traguardi raggiunti dalla Lega negli anni attraverso la via parlamentare, in questo periodo di forte disagio sociale, la storia ci sta dando un'altra grande opportunità dopo quella del 1996. Oggi, più che mai uniti, abbiamo il dovere di agire per la nostra gente. Ritiriamo i parlamentari della Lega Nord dal Parlamento di Roma. Governiamoci i nostri comuni, le nostre province, le nostre regioni. Restiamo sul nostro territorio ed usciamo dal Parlamento di uno Stato che non riconosciamo e che soprattutto non ci rappresenta. Viva la Lega. Auguri Matteo. Grazie.